Se si pensa al mondo degli FPS Arena, i primi nomi che probabilmente ci saltano alla mente sono Quake and Real Tournament, titoli sicuramente un po' troppo datati per essere goduti appieno dalle nuove generazioni di videogiocatori. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto una casa produttrice quale Blizzard a proporre qualcosa di nuovo e innovativo, pur rimanendo con un occhio rivolto al passato e ai padri di questo genere. Dopo quasi un anno, tra Closed e Open Beta, siamo infatti arrivati al momento che molti di voi attendevano con impazienza, il lancio ufficiale. Overwatch riesce a rinnovare l'ambiente introducendo con successo meccaniche prettamente appartenenti all'universo MOBA, come le skill e la funzione degli eroi. Non basterà più, infatti, saper sparare dritto per potersi aggiudicare la vittoria in una delle 12 mappe a nostra disposizione, ma dovremo essere anche in grado di bilanciare correttamente la nostra squadra. Ognuno dei 21 eroi attualmente disponibili possiede quattro abilità base uniche, più un ultimate che potremo caricare nel corso della partita ottenendo punti, accumulabili infliggendo danni ai nostri avversari, curando i nostri alleati o aiutando a completare gli obiettivi di missione di ognuna delle tre modalità di gioco, ovvero Assault, Escort e Control. Ci imbatteremo anche in partite ibride, come la Conquest Escort. Dopo aver completato il tutorial che ci permetterà di prendere confidenza con tutte le meccaniche di gioco, potremo sfidare altri giocatori in partita rapida. Per quanto invece riguarda le partite classificate dovremo attendere ancora qualche tempo. Pur essendo infatti presenti durante tutta la closed beta, tale modalità è stata momentaneamente disabilitata a causa del sistema di matchmaking non perfettamente ottimizzato. Per quanto manchi una campagna e sia possibile giocare solamente online, la lore non è stata trascurata da casa Blizzard. Ognuno dei personaggi dispone infatti di una sua storia destinata ad evolversi nel corso del tempo anche attraverso le cinematic o le varie novel, alcune delle quali già pubblicate. L'aspetto grafico del gioco va a riprendere da un altro classico del genere, Team Fortress 2, mostrando uno stile cartunesco, ma non per questo deludente, anzi. Per quanto infatti uno stile più realistico avrebbe potuto ottenere il consenso di una fascia ancora maggiore di giocatori, questa scelta risulta particolarmente azzeccata, se affiancata all'aspetto umoristico che caratterizza gran parte dei personaggi giocabili. Sotto il punto di vista tecnico, questo titolo risulta quasi inattaccabile. Con un framerate stabile anche nelle situazioni più concitate e una qualità audio che permette di riconoscere distintamente il suono dei passi, Overwatch riesce ad eccellere senza se e senza ma. Concludendo, Overwatch risulta un gioco veramente ben realizzato sotto tutti i punti di vista, unendo al suo interno la storia e i punti di forza dei pionieri di questo genere e le nuove tendenze dell'ambiente, riuscendo senza alcun problema ad adattarsi a qualsiasi stile di gioco, dal più pacato al puro competitivo. Con qualche minima correzione potremmo trovarci di fronte al futuro degli sport mondiali.